La grafica ipnotica, il titolo evocativo ed esoterico, rivelano i contenuti della dodicesima edizione del Levante Film Festival, in programma a Bari dal 20 novembre al 22 dicembre. Mystic, il titolo che stavolta gli organizzatori hanno scelto per la più longeva rassegna cinematografica barese, dedicata nel 2014 alla dimensione spirituale dell'essere umano, così come hanno spiegato nella conferenza stampa di presentazione alla Camera di Commercio di Bari. Noi quest'anno vogliamo parlare di spiritualità in tutte le declinazioni della spiritualità, sia da quella legata molto alle religioni, quell'altra che magari è più legata a una ricerca individuale interiore, altra di organizzazioni iniziatiche, quindi un po' ad ampio raggio attraverso il cinema. Dunque è un mese di proiezioni e incontri che animeranno luoghi prestigiosi e suggestivi, Biblioteca Provinciale del Gemmis, Chiesa Santa Teresa dei Maschi, Cineporto, Hotel Palace, Mediateca Regionale, Multisala Galleria, Nuovo Cinema Splendor e Università. Il Levante Film Festival è organizzato anche in collaborazione con Napulia Film Commission. Il cinema è sostanzialmente uno strumento di conoscenza, non è soltanto divertimento o conoscenza in sé, ma è anche strumento di conoscenza di altri saperi, questo è il senso del nostro festival. Il cielo sopra Berlino, tutti i colori di Chieslosky, Most Film Anniversary, Leaf Mystic Conference. Sono le quattro rassegne su cui si articola il festival, tutte intrecciate dal filo del misticismo e della trascendenza. Ci saranno vari ospiti, tipo Luis Nero, il regista che verrà a presentare Il Mistero di Dante, il suo ultimo film, o Silvano Agosti che farà un vero e proprio seminario. e ancora abbiamo invece delle rassegne che vanno a completare questo quadro e sono una sul focus sul cinema tedesco e verranno degli ospiti internazionali, Berr Desinger che è stato il direttore per anni del Getty Institute a Los Angeles e verrà il professor Spagnoletti che è uno dei maggiori esperti di Venders. Saranno proiettate pellicole indimenticabili e altre meno note al grande pubblico ma comunque di rilievo mondiale, dal Vangelo di Pasovili al Decalogo, da Venders a David Lynch e a rendere ancora più intrigante il festival le conferenze a cui parteciperanno oltre a studiosi e operatori del settore anche capi della massoneria italiana, esorcisti e vescovi. Appuntamenti e calendario su levantefilmfest.com E abbiamo poi un'iniziativa particolare, un ciclo di conferenze in cui ci saranno diversi ospiti, ci sarà Diego Fusaro il filosofo, padre Michele Bianco un esorcista, abbiamo Stefano Bisi, il gran maestro del Grande Oriente d'Italia e ancora abbiamo donato Forenza, la De Serio, dei concerti, quindi le iniziative sono tante.